Per battere il virus bisogna chiudere fabbriche e magazzini. Bisogna garantire l'operatività degli ospedali e della distribuzione alimentare. Ai padroni della salute dei lavoratori non interessa niente, interessano solo ed esclusivamente i soldi. Mercoledì 25 marzo sciopero generale nazionale in difesa della salute dei lavoratori e della cittadinanza. A lavorare in fabbrica e nei magazzini ci vadano i padroni. Io resto a casa, difendo la mia salute. Il 25 sciopero generale, tutti a casa. Il 25 marzo sciopera perché il diritto alla salute vale più del profitto. Bisogna fermare tutte le attività produttive non essenziali perché il diritto alla salute e il diritto alla vita valgono più del profitto delle aziende e delle leggi di mercato. In tutti questi anni i servizi di assistenza ad anziani e disabili hanno vissuto tagli indiscriminati a discapito del welfare sociale e a favore delle privatizzazioni e del profitto. In questo periodo noi operatori sanitari ci ritroviamo ad operare in costante emergenza, costanza carenza organica e mancanza dei dispositivi di protezione individuale, specialmente delle mascherine. Noi come Unione Sindacale di base sono settimane che rivendichiamo la necessità di avere i dispositivi necessari per prestare il nostro lavoro, in quanto nella nostra professione è impossibile mantenere il metro di distanza con le figure fragili di cui ci prendiamo cura.